In principio lo che conosco è il Departamento di Naturaleza e Medio Ambiente come un solo Ministro con il Ministro di Mesa e normalmente il Ministro di Justiça ha firmato lo che abbiamo usato come legge e questo è un toque basato in un solo Departamento di Governo come il Departamento di Naturaleza e Medio Ambiente con lo appucia qui davanti al Ministro per il Ministro con la firma e senza avere un impatto con l'opportunità guardando se il Stakeholder non può ascoltare nel caso del 2017 praticamente sono del 2001 non può ascoltare, qual è il Spear Fishing e quindi io continuo verso l'attra come abbiamo legge con un'attività del 1980 e un'attività del 1995 è un'attività facile, si può ascoltare quindi anche se può ascoltare tutte le cose che sono concerni con il legge ci sono stati con l'attività di un processo di conscientizzazione di qualche altra cosa è un'attività di sicurezza, tradizioni e cultura che hanno a vero con il piscamento la parola è un'attività di carta pensi che non stavamo da vista che questa è una stranagione di una campagna e una transizione del governo, ma è una voce che stava in zona, per qualsiasi governi che sinta, e per qualsiasi cosa del futuro, per qualsiasi governi che sinta del futuro, per comprender, per attender, per rientrare, e per ascoltare, per me, per pensare di avere un tipo di legge.